io spero e voglio che con questa serie ci facciano sognare perché abbiamo bisogno di un sogno io spero e voglio credere che questa produzione amazon prime che sta per far uscire il 2 settembre questa nuova serie sul mondo di tolkien gli anelli del potere di cui è uscito il main teaser questa produzione riesca a rispettare il contenuto che riprodurrà e ci proporrà che questa produzione riesca a mettere tolkien la poetica di tolkien in grado di raggiungerci come è riuscito a fare magistralmente peter jackson con i sei film trilogia signore degli anelli trilogia prequel lo hobbit ce lo meritiamo ne abbiamo veramente bisogno in un momento così buio di questa luce perché guardate io non sono un esperto di tolkien però la storia che questi signori hanno osato provare a raccontare provare a portarci sullo schermo è una storia mozzafiato per quanto è bella e ce la ricordiamo tutti no ce la ricordiamo tutti perché dei frammenti nel film nei tre film del signore degli anelli ce li avevano fatti vedere quando gran passo aragorn ad amon sul racconta the fall of gilgalad la caduta di gilgalad questo re lucente come una stella gilgalad è una stella è una stella di radianza è un personaggio di una bellezza io mi sento un bambino di cinque anni che aspetto il 2 settembre no e gilgalad questo re degli elfi con elendil l'alto grande antenato di aragorn si alleano e sconfiggono loro due in duello morendo dando la vita e essendo in questo grandi figure cristiche come come voi saprete tolkien dissemina senza mai parlare apertamente della sua grande fede cattolica ma dissemina l'immaginario simbolico del signore degli anelli di figure cristologiche e gilgalad e elendil sono due grandi stelle luminose che danno la loro vita per sconfiggere sauron per sconfiggere il male che poi alla fine verrà definitivamente annientato quando isildur il figlio di elendil gli prenderà l'anello e poi sappiamo come va e tutte queste scene le abbiamo già viste nel film nei film del signore degli anelli e pare che questa serie racconterà nel dettaglio proprio questi eventi e la storia è di una bellezza mozzafiato la storia dell'ultima alleanza io credo che abbia il potenziale per diventare addirittura più bella delle storie raccontate della terza era dello hobbit del signore degli anelli c'è una bellezza una potenzialità di bellezza possente potente e su questo canale lo sappiamo quando si parla di arte quando si parla di bellezza non è qualcosa che noi possiamo prendere alla leggera perché su questo canale tante volte ci siamo ricordati degli insegnamenti di dostoevsky la bellezza salverà il mondo no quell'immagine meravigliosa nell'idiota quando il principe minsky a un certo punto dice questa frase la bellezza salverà il mondo inserito nel torbido nello schifo della san pietroburgo schifosa no marcia marcescente lui ha questi slanci il cristo russo il cristo meraviglioso del principe minsky che dice la bellezza salverà il mondo ma questa era un'idea già di schelling già di schelling quando l'arte ci presenta la bellezza sta parlando l'universo e tolkien di bellezza ce ne ha regalata tanta e tra tutta la bellezza che ci ha regalato proprio la storia dell'ultima alleanza io spero veramente ragazzi ragazze spero spero che ci riescano spero che non tradiscano come l'ultima stagione di game of thrones ha tradito martin e game of thrones spero che non tradiscano la storia che tolkien ha immaginato e ce lo ricordiamo no qui avevo anche preparato dal signore degli anelli la la citazione quando ma è un po lunga ma comunque quando ce lo ricordiamo tutti anche nel film no quando un grande vigo mortensen interpreta gran passo che porta gli hobbit sulla torre di amon sul la torre di amon sul e dice gli hobbit gli chiedono ma dove siamo ma dov'è questo posto che cos'è questo posto e gran passo racconta la storia da qui questo avamposto vide riunirsi le grandi schiere di elen dell'alto il grande re degli uomini e di gil galad la stella di radianza la stella luminosa che disse sì ci dobbiamo alleare con gli uomini facciamo l'ultima alleanza per andare a marciare contro il male assoluto di sauron e alla fine questi due grandi re daranno la loro vita per sconfiggere il male di sauron e sono dei personaggi di stordente bellezza di stordente bellezza io spero che vengano resi spero che vengano resi ecco gil galad per esempio che è veramente divorante la bellezza di gil galad perché c'è tutto c'è tutto il dispositivo che notico cioè c'è tutta la potenza cristologica della grande luce del grande della grande fiamma di stella luminosa che si svuota si abbassa scende al livello degli uomini e combatte con gli uomini no e Tolkien lo prende da san paolo lo prende da san paolo vi ricordate quando paolo dice non disdegnò lui che era il figlio parlando di cristo non disdegnò di svuotarsi la kenosis la kenosi cristo si svuota e diventa uomo questo fa gil galad nella storia dell'ultima alleanza non disdegnò lui che era il re dei re degli elfi la luce più bella la luce più alta ma non farà come lucifero gil galad che resta in un cielo che non illumina la terra ma non disdegna gil galad al contrario di lucifero di svuotarsi di scendere di scendere tra gli uomini e di combattere con gli uomini ed è una storia quella dell'ultima alleanza con lui e elendil che alla fine danno la vita a mordor combattendo contro il male contro sauron è una storia che noi meritiamo ci sia raccontata e io ve la leggo ve la leggo la qui la parte di del signore degli anelli la poesia su gil galad e spero veramente che questa grande bellezza amazon prime prime con la sua produzione sappia rispettarla è lungo vi leggo è lungo vi leggo soltanto l'ultima parte però veramente merita gli hobbit guardarono e sono ad amon sul no quando stanno andando poi a gran burrone una scena che è stata ritratta nel primo dei tre film sul signore degli anelli gli hobbit guardarono gran passo stupefatti pareva esperto delle antiche storie e leggende oltre che di piste attraverso zone selvagge chi era gil galad e mette i brividi ragazzi ragazze mette i brividi chi era gil galad chiese merri ve lo ricordate no merri uno degli hobbit che segue frodo ma gran passo non rispose come immerso nei propri pensieri improvvisamente una voce mormorò gil galad sugli elfi soleva regnare tristi cantano ora i menestrelli i giorni ancora liberi e belli del suo regno tra i monti e il mare la sua lancia era guzza la sua spada tagliente da lungi il suo elmo splendeva possente migliaia di stelle che in cielo raggiavano nel suo scudo d'argento si rispecchiavano ma mille anni fa egli cavalcò via e nessuno oggi sa dove gli adesso sia perché diede la vita combattendo contro sauron l'unico che riuscì a reggere in combattimento pensate chi era no ve lo ricordate sauron nei film che cos'è lui riuscì a reggere il combattimento e a sconfiggere sauron insieme a elendil e la sua stella cadde nelle tenebre profonde è un'immagine cristologica questa a mordor dove la cupa ombra si diffonde cristo scende degli inferi gil galad va a mordor per liberare la terra dal male e la sua stella cadde nelle tenebre profonde a mordor dove la cupa ombra si diffonde spero veramente fatemi sapere la vostra fatemi sapere che ne pensate se vi piace il mondo di tolkien se anche voi state aspettando questa serie come me con trepidazione come me spero che la rispettino spero che ce la raccontino come questa storia merita di essere raccontata ciao a tutti e ciao a tutte